Al termine dei 4 anni di Accademia, oggi ripeto 5 perché si consegue questa laurea dal 2000, le scienze marittime e navali, al quarto anno c'era la decisione di quello che si doveva, si poteva fare come specialità nel futuro impiego della propria carriera in marina. Ognuno sceglieva, si fa per dire, esprimeva una desiderata che poi l'Accademia e lo Stato Maggiore, in base a un problema soprattutto di bilanciamento fra i vari ruoli, perché non si poteva mandare tutti i primi del corso a fare, che so io il pilota, e gli ultimi del corso a fare l'artigliere, doveva, anche per una questione sicuramente non personale, ma per un bilanciamento e per il futuro progresso dell'impresa in quei settori, al termine del quarto anno comunque eravamo pronti per abbracciare questa specialità. Io devo dire che questa desiderata l'avevo maturata nell'imbarco, come un po' tutti i miei colleghi, nell'imbarco del terzo anno, che era un imbarco estivo sulle navi della nostra marina, delle varie divisioni, in cui ci facevano ruotare nei vari servizi per capire quello che poteva essere più confacente per le nostre attitudini. Dopodiché era sempre l'Accademia che decideva, uno poteva esprimere una qualunque desiderata, ma poi giustamente doveva essere l'Accademia che vedeva la cosa da ben più in alto di quello che era l'interesse personale, ma un interesse più generale. La maturazione dell'idea di fare il pilota è avvenuta proprio durante uno di questi imbarchi estivi. A me capitò di imbarcare su nave Andrea Doria, su un incrociatore, insieme ad altri dieci miei compagni di corso, e lì ebbi la fortuna di vivere con la parte del servizio volo, oltre a ruotare nei vari servizi, diciamo un periodo particolarmente felice, come aspirante, cosa che non era per la verità negli altri servizi di bordo, quindi avevo trovato un servizio che mi soddisfaceva più di altri, c'era un'ottima atmosfera tra i piloti imbarcati, e quindi da lì mi indirizzai verso quello che era l'attività di quello che Birindeli chiamava la terza dimensione, per lui era quella bagnata, la terza dimensione, per me era quella asciutta, cioè quindi uno per me doveva fare il volo, lui era ovviamente come altri, sommergibilista o poi operatore nei mezzi di assalto, quindi sotto la superficie o sopra la superficie. Grazie a Dio c'erano però le navi che operavano nella superficie con tutte le altre specialità. Sta di fatto che una volta scelti dalla Marina, quindi sposando questa desiderata, di fare il pilota, frequentammo un corso, sempre in Accademia, questo Pre-Flight, Pre-Flight che consisteva sostanzialmente nello studio delle materie, dall'aerodinamica, alla meteorologia, ai sistemi di propulsione aerea, ovviamente, ma perché veniva fatto? Primo per imparare l'inglese, che anche se l'avevamo studiato per quattro anni, nessuno spiaccicava una parola. Secondo, ed avevamo per questo un capitano di fregata, anche un link con Camp Darby, con gli americani, in modo tale che ci abituassero a parlare americano, ci evitavano spesso a vedere i film in americano, che solo in lingua, che solo lì si potevano vedere, e poi la cosa, diciamo, l'addestramento più pesante era quello dal punto di vista sportivo, fisico sportivo, per cui si facevano 50 vasche in piscina alle 6 del mattino, il miglio in piscina, il miglio terrestre per la campestre, quindi con un percorso di agilità anche non tenero, è abbastanza pesante, e questo per tre mesi, perché per fare in modo che poi, essendo inviati negli Stati Uniti per fare il corso di volo, lo superassimo e non facessimo fare delle figuracce alla Marina italiana e all'Italia. Questo non è mai avvenuto, perché noi ci siamo sempre, i corsi precedenti, quelli che hanno seguito, che ho seguito poi anche direttamente per incarichi, sono sempre stati, devo dire, nei primissimi posti rispetto ai marinai o anche ai marines, che sono particolarmente, voglio dire, orientati verso l'attività sportiva, noi quando eravamo in acqua o quando si faceva la campestre o percorso l'agilità, i primi dei mille che formavano erano tutti italiani, quindi da questo punto di vista la Marina italiana ci vedeva lontano, cioè addestrarli molto, addestrarci per fare in modo che poi superassimo senza difficoltà e anche con un'immagine decisamente positiva. Arrivati negli Stati Uniti, anzi prima di arrivare, io ebbi la fortuna di trasferirmi negli Stati Uniti col Michelangelo, allora c'erano delle belle navi, parliamo degli anni ancora 70-71, in cui gli aerei tipo il 747 o altri aerei non erano ancora nelle linee regolari, nelle linee di volo e invece le società di navigazione stavano mano a mano perdendo clienti in qualche modo e allora ci mandarono, anziché usare l'aereo per andare negli Stati Uniti, dicevi imbarchiamo per 10-11 giorni sulla Michelangelo, sul Raffaello, così fate un po' di pratica in plancia, cosa che facciamo relativamente poi, ma fu un viaggio molto interessante sotto tutti i punti di vista, anche relazionali, arrivati negli Stati Uniti, andammo a Pensacola dove c'era il corso, dove si teneva il corso. La prima parte del corso di volo negli Stati Uniti, una serie di basi, un po' all'americana, di aeroporti, di cui la parte centrale era a Pensacola in Florida, noi lì abbiamo iniziato l'attività prima a terra, la cosiddetta ground school, la scuola di terra, per rifare un po' tutte quelle materie dove gli italiani si distinguevano ampiamente grazie alla formazione accademica, dell'accademia che non aveva pari rispetto alla formazione dei nostri compagni di corso, perché eravamo integrati, non è che hanno fatto un corso per noi, noi eravamo come allievi integrati in quegli allievi piloti che erano un migliaio l'anno che venivano formati per il Vietnam. Allora c'era, c'era, è stato per tanti anni, la guerra in Vietnam dove era richiesto soprattutto, erano richiesti i piloti, i piloti di elicottero in particolare, e c'erano corsi che iniziavano ogni settimana, non ogni anno, come è capitato, ogni settimana, per cui se uno poi alla fine della settimana non superava un test, cadeva nella settimana successiva, e c'è un fatto organizzativo notevole, ma insomma, perché gli americani avevano notevoli possibilità, però anche l'organizzazione era veramente di tutto rilievo. L'unica cosa che io raccomandavo, poi anche agli allievi e ragazzi che andavano negli anni successivi, ma anche che noi abbiamo riscontrato e sbattuto la testa, era il contrasto nella mentalità latina da una parte e sassone dall'altra. Cosa voglio dire? Soprattutto durante l'attività di studio e di test, se uno viene in America preso a scambiarsi delle indicazioni o addirittura a copiare, viene considerato un ladro, cioè copiare uguale rubare. E vengono espulsi dai corsi quelli che vengono presi a copiare per anche, per pochissimo, cosa che noi, per noi il calepino in accademia era un modo per fare un piccolo riassunto, qualche volta sì sbirciandolo anche durante i test, ma fatto di cultura italiana, non è che, lì venivano denunciati da chi era a fianco, quindi se uno sbirciava o chiedeva qualcosa, quindi un contrasto di mentalità incredibile, per cui all'americano si potrebbe chiedere qualunque cosa, ma non di giustificare in qualche modo lo scambio di idee, di notizie durante le elezioni, durante un test. E questo poi ebbe delle conseguenze per alcuni allievi che ho avuto modo di seguire, anche di gestire nel tempo. sta di fatto che lì iniziamo a volare, ma prima di iniziare a volare gli americani, giustamente anche qui un fatto organizzativo, pretendono che tu superi dei corsi di inglese di un certo tipo, dei corsi didattici di altro tipo, però che sono assolutamente percorribili e soprattutto che si superino i corsi di sopravvivenza. Sopravvivenza, abbiamo visto in ufficiale Gentiluomo, con i percorsi di agilità, ma i corsi di sopravvivenza, c'è un corso di sopravvivenza terrestre, che è quello più duro, che dura circa una settimana, in cui si viene preventivamente preparati, indottrinati, ovviamente non è che ti buttano nella giungla, ma poi vieni buttato nella giungla, scaraventato nella giungla, come se fossi abbattuto durante delle operazioni in Vietnam e devi sopravvivere. Tu e l'equipaggio. L'equipaggio che può essere fatto di due o tre passeggeri, lì eravamo 5-6 persone e i piloti. Vieni buttato nella giungla, lì nelle zone viciniori, dove poi i ranger più o meno ti beccano sempre dopo 5-6 giorni, ma soprattutto uno deve sopravvivere mangiando un po' di radici, di roba che si trova in quelle aree, qualche pesce nei rigagnoli, si sanitizza l'acqua con delle pasticche che uno ha nella sua tenuta da volo regolare e quando la fame dice davvero, come è capitato a noi, si mangia anche il serpente se si trova. Noi abbiamo un giorno, un nostro compagno di corso, che era con me, con una mira particolare, aveva fatto con delle, col paracadute, con gli elastici del paracadute, aveva fatto una bella fionda. A un certo punto uno dei marins che era nella nostra squadra, vista questo serpente avvoltolato in un albero, ovviamente urla strilè, però nessuno faceva nulla, al nostro, all'italiana maniera, con una fionda, Socrate Gentile, tira giù questo serpente che poi abbiamo, poi si sono, ovviamente i marins sono andati e l'han fatto a pezzetti, però chi ha avuto al solito la meglio, l'idea, è stato uno dei nostri, insomma, dei nostri che erano i sopravviventi, questo per dire corso di sopravvivenza, comunque indottrinava la gente non solo a sopravvivere, ma anche in finale, siccome i rangers ti prendevano sicuramente, perché sapevano dove eri, ti costringevano anche a imparare ciò che potevi dire rispetto a ciò che non dovevi assolutamente dire nei confronti di questi ranger che ti prendevano, facevano la parte del Viet Cong, quindi ti costringevano a dire chi sei, da dove vieni, a chi appartieni, eccetera, e invece quindi c'era un addestramento che non era solo quello della sopravvivenza in quanto tale, ma anche di gestione di un prigioniero di guerra, insomma, di un P.O.W. ora, quello in mare, lo stesso, abbastanza complica, però durava un paio di giorni, quindi era più, in ogni caso, anche lì, battellini di sopravvivenza, lanciarazzi, cioè tutte le procedure che uno doveva mettere in atto se cadeva, se aveva la sfortuna di cadere in mare. E' iniziata in quel, quindi a Pensacola, poi superati questi corsi, perché erano mandatori per iniziare poi l'attività di volo, abbiamo iniziato su una delle basi, Softly Field, il volo sui T-34, T-34, che era una specie di Cessna, diciamo, un aereo che perdonava un po' tutto, giustamente, veniva messo come aereo iniziale, dove dopo sei ore, come è capitato qui a Calderara, a Centocelle, nel 1910, con i fratelli Wright, dopo sei ore ti fanno il check, il famoso check for safe solo, per la sicurezza, se riesci, se ce la fai andare da solo per aria. Così è avvenuto, ripeto, dopo sei ore, da questa base, da una delle N basi che ci sono lì intorno a Pensacola, e dopodiché, ovviamente, sono iniziati i periodi, diciamo, con aerei molto più complessi, tipo caccia T-28, la cosa strana è che ti poteva capitare qualunque tipo di istruttore, l'istruttore poteva essere o Nevi o Marines, a me capitò un Marines che tra l'altro aveva, poveretto, il Capitan Smith, le orecchie mozzate, perché era stato purtroppo preso dai Viet Cong, gli era andata bene che era sopravvissuto, ma lascio a tutti indovinare che tipo di carattere avesse, uno che aveva fatto una prigionia piuttosto prolungata, torturato, e poi gli americani per dargli un po' di respiro, infatti la maggior parte erano istruttori dei Marines, che venivano poi mandati alle scuole di volo perché era un incarico, tutto sommato, abbastanza, cioè non da stress, come posso dire, rispetto a quello che avevano avuto in precedenza. Poi abbiamo fatto il T-28, fatto in questa base a Whitingfield, vicino, 15 chilometri dal centro di Pensacola, altro aereo in cui si faceva navigazione strumentale, acrobatici, oltre alla navigazione a vista. Insomma è stata un'attività molto, gli acrobatici, dal looping al tonno, se riusciva a fare qualunque cosa, lo consentiva, lo consentiva però, perdonava molto di meno del precedente. E poi noi essendo abituati alla vita in accademia, chiaramente avevamo tutto lo spazio, l'indipendenza, per poterci dedicare anche attività più ludiche nella vita americana. Quindi io ho avuto la fortuna di conoscere una ragazza che poi è diventata mia moglie, una ragazza americana, Deborah, e anche miei compagni di corso sono stati catturati nello stesso periodo da analoghe ragazze che poi tuttora vivono anche con i nostri compagni di corso qui in Italia. Quindi è stato un periodo di vita estremamente significativo, non solo per la parte, come dire, volatoria, ma anche per la parte di esperienze e di vita. Quindi quando poi, dopo questo periodo sui T-28, siamo stati mandati in Texas, a Corpus Christi, ai confini col Messico, dove oggi c'è purtroppo una soglia di immigrazione notevole da quelle parti. Infatti anche allora c'era una grossa presenza di messicani nella zona di Corpus Christi, dove abbiamo fatto questo aereo multi-engine, quindi l'S2F, il Grumman, che poi abbiamo fatto anche qui in Italia, perché poi era il periodo, diciamo, in cui c'era una certa comunanza con chi era destinato alla sola linea alla fissa, ha continuato con questi S2. Noi, io, invece, dopo aver preso le ali a Corpus Christi, siamo tornati a Pensacola. Per cosa? Per fare, per prendere le ali sull'elicottero, sugli elicotteri. Grazie.